Stiamo affrontando un'emergenza che è come quella della Seconda Guerra Mondiale. E il bollettino di guerra è simile. Il presidente del Veneto, Luca Zaglia, ha commentato così i dati di domenica, giornata in cui si registrano nella regione oltre 14.000 persone in isolamento fiduciario, oltre 5.000 casi positivi, 1.368 ricoverati, 255 in terapia intensiva, 169 decessi e 309 guariti dimessi. Zaglia ha spiegato che, secondo i nostri modelli statistici, saremo in trincea ancora per tutto aprile. Se saremo bravi, potremo anche anticipare questi tempi. Poi, tra maggio e giugno, potremo vedere i primi raggi di sole e finire questa partita con pochi casi sporadici, isolati, assolutamente gestibili. Il governo ha deciso di predisporre un DPCM che prevede la chiusura delle aziende e altre attività fino al 3 aprile ed è in linea con quanto chiedevo da tempo. Sono stato criticato quando 15 giorni fa dicevo che si sarebbe dovuti arrivare al coprifuoco. Ecco, ci siamo arrivati, ha aggiunto Zaglia.